News del 16 settembre 2024. Questo brevissimo video di introduzione è per farvi sapere che questa sera alle 20.30 c'è un programma molto ma molto interessante in diretta di una persona che reputo molto cara, Mauro Libertucci. Vi parlerà della curvatura della Terra. Inoltre in questo video voglio sempre ricordarvi che attraverso il prezioso indice alfabetico oppure su tutte le pagine di www.tinelli.eu potete accedere a tutte le piattaforme libere tipo Brighton dove su Brighton oggi viene presentato un libro di The Children's Earth Defense per la salvezza dei bambini. E' molto interessante, molto educativo e vi fa capire molte cose degli anni che abbiamo trascorso. Cliccateci sopra e andate a vedere il video che solo lì potete vedere. Ciao, buona giornata, buone cose e mi raccomando non dimenticate la diretta su Dave di questa sera. Ciao, di nuovo.